Finito l'inverno, è ora di risvegli. Sboccia un fiore, primavera di Libera. Un sud antico coltivato a crano, un sud antico coltivato a crano. Cinque appuntamenti speciali per squattere le coscienze e raccontarvi le mafie. Radio Frequenza Appennino, in collaborazione con Blogos Web Radio, vi danno appuntamento domenica alle 10 ed in replica alle 15 e alle 20. Tanti ospiti e contenuti inediti per imparare a riconoscere le mafie e a combatterle. Primavera di Libera, svegliati anche tu!